Terminata questa day 1B lunghissimo, sono 5 gli italiani che approdano al day 2 con i 7 di ieri, sono 12, Calia 90, Mila, Migneri 64, Pagano sui 200, Luana Spadaro 40 e Luizini anche lui sui 40. Dario come è andato? Come sei andato Dario? Tornata? Beh, negativa, negativa perché ero salito a 140, dopodiché a pensionare ho vinto un piatto, però non mi piace tanto, e nulla, adesso siamo a 60, è uno stack buono, si può fare qualcosa domani. Recrimini qualcosa di oggi? Ci sono state tante mani, però sì, forse una dove potevo fare un push e una mani chiusa per il mio avversario, stavo abbuffando quasi per certo, ma nonostante tutto non me la sono sentita, entrambi avevamo unitai, la conseguenza. Abbiamo visto combattere con un giocatore francese che è dall'altra parte, com'era come tipo di giocatore? Beh, secondo me è pessimo, però non voglio dire questo perché magari sembra che stai rosicando, però veramente pessimo, pagherei per averlo domani a tavolo, però purtroppo non sarà così. Vabbè, domani ti aspettiamo, comunque il day 2, 60.000 si può assolutamente arrivare senza nessun problema, non sappiamo la media. 30.000 si può arrivare fino a fondo, l'importante è avere 20-30 bui, ma l'importante è avere una chips. Soprattutto non essere abbattuto e cercare di tornare domani con... Sì, adesso riposo e mi ridarà l'energia sufficiente. Salutiamo l'Italia del poker. Ciao amici, l'Italia del poker.